Musica Una domenica di sole e caldo foso con il lago e le montagne prese ad assalto da turisti ed escursionisti, quattro gli interventi del soccorso alpino a Primaluna intorno alle 11 in località Crevesto un 73enne ha avuto un malore sul sentiero che porta alla croce. Raggiunto dalle due squadre territoriali l'uomo è stato valutato e accompagnato fino all'abitato di Primaluna dove c'era l'ambulanza del soccorso centro Valsassina. Fondamentale in questo caso l'utilizzo della moto da trial in dotazione già da due anni alle squadre di Barzio, Dervio e Premana. Un operatore ha potuto accompagnare immediatamente il sanitario del soccorso alpino dove c'era la persona in difficoltà per una prima valutazione, proseguita poi con il contatto diretto con la centrale di Soreo dei Laghi. Alle 16.50 attivazione a pasture, località Piale, era per un bambino che si era ferito alla schiena mentre stava giocando. Sul posto la squadra territoriale della stazione e l'elisoccorso di Areo decollato da Como. Poco dopo a Premana alle 18 i tecnici sono intervenuti per una ragazza che stava scendendo lungo il sentiero di Valfraina. Si è fatta male, ha un ginocchio e allora ha chiesto aiuto. La squadra della stazione l'ha raggiunta. Constatata la gravità della sospetta lesione, in accordo con la centrale Soreo dei Laghi, si è deciso di fare intervenire l'elisoccorso di Como per il trasporto in ospedale. Infine domenica sera una coppia di inglesi è stata raggiunta dai vigili del fuoco di Lecco, impegnanti con una squadra SAF, Spello Alpino Fluviale, in collaborazione con il 118, e il soccorso alpino e speleologico lungo la ferrata del Medale a Lecco. L'allarme era scattato poco dopo le 20, quando i due escursionisti, probabilmente preoccupati dallo trascorrere delle ore e quindi dal sopraggiungere del buio, non riuscendo più a rientrare, hanno allertato i soccorsi, intervenuti in codice giallo, dopo aver fatto alzare in volo anche l'elisoccorso da Como. La missione è terminata con il trasporto in ospedale dei due turisti stranieri. La sospensione dei lavori da parte dell'amministrazione è un esposto in procura presentato dall'opposizione. In questo luglio bollenti si fa sempre più calda la vicenda dell'ex campeggio di Mandello dell'Ario. Il Comune ha deciso di fermare le opere in attesa di un chiarimento tecnico. Il gruppo consigliare di Casa Comune tira dritto per la sua strada e in queste ore ha depositato un esposto. L'amministrazione crede fortemente nella necessità di una riqualificazione dell'area da tempo abbandonata a se stessa e con evidenti situazioni di degrado di utilizzo improprio sia delle proprietà private sia dell'area de Magnale, spiega il sindaco di Mandello dell'Ario Riccardo Fasoli. Non per questo l'intervento deve essere svolto senza i controlli tecnici del caso. Si sta lavorando per verificare e risolvere la questione sollevata dalla provincia di Lecco circa la presenza negli elaborati di interventi su area de Magnale. Dopo attenta verifica con i consulenti legali e le autorità competenti, prosegue il primo cittadino, nelle scorse giornate è stato emesso il provvedimento di sospensione dei lavori. Il problema ha sollevato la competenza sul rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. Come già specificato, la verifica ambientale è stata svolta, comprensiva di parere della soprintendenza. Il tema è chi doveva rilasciare tra provincia e comune. Come per ogni pratica edilizia, saranno valutati e verificati tutti gli aspetti tecnico-giuridici delle segnalazioni ricevute. Confidiamogli una positiva soluzione della questione, conclude Fasoli, e di poter riattivare presto il cantiere per mettere così il completamento dell'importante rigenerazione urbana con la realizzazione della strada di collegamento tra via Lungolario e via Giulio Cesare, la realizzazione degli accessi pubblici all'area demoniale, scale ascensore e della piazza Belvedere pubblico. Intanto, lunedì mattina, i consiglieri di Casa Comune hanno depositato un esposto in procura a Lecco. I temi centrali sono la mancata osservanza della norma di legge in materia urbanistica edilizia, la mancata tutela dell'interesse pubblico e il danno ambientale. Sul tema del danno ambientale, in particolare, ci risulterebbe, spiega Riccardo Mariani, dagli approfondimenti effettuati, che l'area Lago è ancora qualificata come verde privato tutelato dal vigente piano di governo del territorio. Quindi, se dovesse essere confermata questa qualifica, il danno per il territorio, per il paesaggio e per la collettività sarebbe enorme perché in quell'area è assolutamente vietato inserire nuove costruzioni. Di conseguenza, la costruzione a Lago risulterebbe illegittimamente autorizzata. L'esposto è stato inoltrato anche alla Corte dei Conti, alla Soprintendenza dei Beni Architettonici di Milano, alla Prefettura di Lecco. Noi, conclude Mariani, continuiamo a sostenere da tempo che debba essere avviato un procedimento amministrativo in autotutela da parte del Comune, a causa della mancanza della necessaria ed esclusiva autorizzazione paesaggistica provinciale. Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia Romagna, e Beppe Sala, sindaco di Milano, sono loro i vincitori dell'edizione 2023 del Governance Pool, la tradizionale rivelazione del consenso degli amministratori locali svolta per il sole 24 ore da noto sondaggi. Al quarto ultimo posto, 83esimo, lo scorso anno era 75esimo della classifica, il sindaco di Lecco, Mauro Agattinoni, secondo l'esito dell'intervista e con un risposto, 600 lecchesi avrebbe perso il 6,1% di consensi rispetto al 2020 quando è stato eletto. Se il primo cittadino non commenta il risultato, farlo con una nota al vetriolo, il capogruppo di Appello per Lecco, Corrado Valsecchi. Francamente non ho mai dato troppo peso ai sondaggi e devo dire che questo, del sole 24 ore di oggi sul gradimento dei sindaci, non mi ha stupito, spiega. Conosco Beppe Sala, che cappeggia la classifica e soprattutto conosco la piazza milanese e sono informato sul gradimento. Conosco Mauro Agattinoni, sindaco di Lecco, che sta al quarto ultimo posto del sondaggio di tutti i capoluoghi di provincia e indagati del giornale economico, ma soprattutto conosco e frequento la piazza e i marciapili di Lecco e quindi non mi sorprende questo risultato. Credo che in questa classifica, se ricordo bene, nessun sindaco di Lecco sia mai sceso sotto il 50% del gradimento o veleggiava lì intorno. Vedere Lecco in fondo alla classifica fa dispiacere, ma è un sondaggio e con un risultato così nel 2024 dovrebbe migliorare perché ci sono 82 posti da recuperare e salite, solo tre in discesa. Mi auguro veramente che ci sia un cambio di passo dopo tre anni di amministrazione. E ancora, mi auguro, conclude Valsecchi, che il sindaco, anziché fare la guerra contro i mulini a vento, si accorga di situazioni imbarazzanti nella sua giunta con conflitti di interesse e incompatibilità manifeste e inizia a fare a meno di alcuni cattivi consiglieri. Non sarà un sondaggio negativo per ben tre anni a segnare il destino di Gattinoni, ma sicuramente sarà la capacità di reazione politica, cambiare insomma ciò che deve essere cambiato. Imbarcai su un cargo battente a bandiera di in barriera. Non senti mai cosa trasportasse quel cargo, ma forse un giorno lo capirei. Droga! Carlo Verdone è la piazza gremita, i lecchiesi accalcati dietro alle transenne, le risate fino alle lacrime, mentre racconta i suoi personaggi più riusciti. Attore, regista, sceneggiatore e comico, il retroscena di una carriera lunghissima, l'incontro con Rossellini, che ha creduto in lui, il bagno di folla nell'ultima giornata dell'Eco Film Fest, organizzato dalla Fondazione Ente dello Spettacolo e promosso da Confindustria, Lecco e Sondro. Epilogo della Domenica Lecchese del Grande Artista, iniziata alle 15.30 al Cinema Nuovo Aquilone, dove Verdone ha introdotto la proiezione di Umberto D. di Vittorio De Sica. In qualche modo il doppio volto di questo festival, con le risate che si mischiano ai pensieri, capaci di far riflettere e di ridestare lo stupore. Noi siamo pieni di cose importanti, di elementi importanti, però non ci facciamo più caso. Abbiamo la testa china, sempre sullo smartphone. Siccome viviamo così, con la testa china, ma non viviamo più così. Ecco, qua per esempio c'è uno stupore, c'è uno dei campanelli più alti d'Italia, è questo, più di 100 metri. Questo è uno stupore, è bellissimo, e ha tanti significati, poi tra l'altro. Stupore significa trovare dei significati, non qualcosa che ti colpisce, ma dei significati alti, positivi. Da un sacco bello alla vita da Carlo. 40 anni Carlo Verdone, con i suoi film, ci accompagna. Dove trova tutta questa forza inesauribile? Non lo so nemmeno io. Guardi, mi creda, non lo so nemmeno io. Io ogni volta dico, questa volta lo sbaglio, perché arriverà un momento in cui la corsa non ce la farò a terminarla. E invece gliela faccio. Perché? Perché sono ancora uno che si stupisce, in qualche modo. Quindi io, per lo stupore, sono sempre pronto, perché sono sempre pronto a pedinare, a osservare, a raccontare piccoli dettagli, che poi diventano delle cose che appartengono un po' a tutti. E questa vita da Carlo, poi alla fine, più del 60-65% assomiglia realmente a me, perché sono vicende che mi sono veramente capitate. Il futuro del cinema sarà nelle sale ancora o nelle piattaforme? Se uno guarda i risultati del cinema, ogni mattina dice, però non perdiamo la fiducia, non c'è una soluzione. Però una piccola soluzione è forse quella di fare dei bei film, fare dei bei film. Cominciamo a fare dei bei film e non delle patacche. E poi speriamo che la gente senta anche un po' la necessità, la voglia di aggregazione e di condivisione. Perché qua stiamo vivendo sempre più soli. Grazie a tutti.